Leonardo Silva Revisore Facciamoci una domanda. Ma noi riusciamo ad essere sempre noi stessi? E noi riusciamo ad essere noi stessi nel lavoro che facciamo? Eh, non è semplice. Io ho impiegato veramente 32 anni per capirlo. E alla fine ho visto che un po' essere è un po' come credere. Però poi anche credere è un po' come amare. Quindi essere, credere, amare non fa differenza. Sono la stessa cosa. Il problema è essere cosa. Nell'essere cosa, ora potrà sembrare un gioco di parole, è che Shakespeare non me ne voglia, ma è soltanto una questione di paura. Essere o non essere è una questione di paura. Quello che noi dovremmo iniziare a fare è cercare di ascoltare il nostro corpo e capire che durante quei momenti in cui ci arriva quell'impulso, quella sensazione della paura, non sta accadendo nulla di strano. Nel mio caso particolare era il mio corpo che voleva dirmi «Ehi, Gaspare, guarda che rischi anche di fare la cosa giusta. Stai attento che potrebbe essere la tua opportunità». E in questi momenti l'unica paura che noi dovremmo avere è proprio che la paura ci abbandoni. Il problema però è che essere se stessi significa accettare il cambiamento. Ma accettare il cambiamento significa essere cambiati. accettare il cambiamento ma farlo capire anche agli altri che noi siamo cambiati. E questo ci spaventa. Ci spaventa perché abbiamo tanti timori, ma non dobbiamo. Perché il cambiamento è la natura delle cose. La mia storia inizia con un ricordo, vivido, vero, ce l'ho ancora in mente. Avevo forse sette, otto anni, era Natale, ed ero giù dai nonni, con mamma, papà, mio fratello, i miei, i zii, i parenti, tutti quanti insieme. E per una chiacchiera o un'altra, mio zio mi fece una domanda. La più classica delle domande è che si possono fare ad un ragazzino di quell'età. Cosa avrei voluto fare da grande? La mia risposta? L'astronauta. Chi è che non aveva mai pensato all'astronauta, soprattutto in quell'età? Bene, immaginate. Immaginate cosa sarebbe potuto accadere se in quel momento qualcuno mi avesse detto ma no, non puoi fare l'astronauta. Un dramma. Un dramma perché in quel momento quel ragazzino ci crede veramente in quello che dice. In quel momento è se stesso. Poi noi purtroppo, o per fortuna non si sa ancora, cambiamo, cresciamo. E nel crescere iniziamo a proiettarci delle aspettative. Oppure forse a proiettare delle aspettative che gli altri stanno proiettando su di noi e cerchiamo un po' di aderire e fare quello che gli altri si aspettano che noi facciamo. Al punto tale quasi di cancellare dalla memoria quel ragazzino che invece voleva fare l'astronauta. La mia prima grande scelta difficile che mi ha segnato fu quando arrivò il momento di proprio scegliere la scuola superiore. I professori mi consigliarono istituto tecnico geometra e io vedevo i miei amici liceo scientifico, liceo linguistico, liceo classico. E io non volevo minimamente essere da meno. Quindi liceo scientifico. Una catastrofe. Fallimento totale. Eppure poi mi resi conto che forse era proprio solo l'inizio delle mie opportunità. Avevo tanta paura. Paura di cambiare scuola, di non essere nuovamente all'altezza e di deludere i miei genitori. Cambio scuola. Istituto tecnico industriale, elettronica e telecomunicazioni. Ho imparato ad amare la scuola. Ma amarla perché non era soltanto quella fama di conoscenza. Era proprio la scuola tutti i giorni. Il vivere la scuola, fatta di persone, fatta di uomini. E quando si incontrano dei professori che sono e amano il loro lavoro, lì le cose cambiano. Poi successivamente mi iscrissi all'università. Università Politecnica delle Marche. Presi la laurea di primo livello, ingegnere elettronica, laurea specialistica. Iscritto, mai finito. Perché nel frattempo accade qualcosa che non avevo minimamente preventivato. Conobbi la fotografia. La mia ragazza sempre nel periodo di Natale mi regalò una macchina fotografica. E poi quando mi resi conto che il tempo trascorso sulla macchina fotografica era almeno di dieci volte a uno rispetto al tempo che stavo su libri, io mi sono sentito perso. Non saprevo più cosa fare. Immaginate cosa mi poteva passare tra la mente quando pensavo a tutti i sacrifici che i miei genitori avevano fatto per farmi studiare. È nuovamente delusione. Poi però a un certo punto ho presi coraggio. Tornai a casa. Mamma, papà, domani apro la partita IVA. Da fotografo. Oggi ringrazio ancora i miei genitori. Li ringrazio perché loro in quell'istante, in quel momento, mi trattarono esattamente come quel ragazzino che voleva fare l'astronauta. E allora io intrapresi la carriera da fotografo e fu particolare, scusate, perché in quel momento presi tutte le mie paure e le iniziai a trasformare in albe, tramonti, racconti, viaggi. E ad un certo punto iniziavo a vedere quindi il mondo attraverso una lente, una macchina fotografica. Ma la cosa bella è che non stavo guardando il mondo. Forse per la prima volta stavo guardando me stesso. E forse per la prima volta sono riuscito ad essere quel ragazzino che voleva fare l'astronauta e che voleva poi raccontare il fascino delle stelle. Questa è un'immagine un po' particolare. È come prima cosa la voglio dedicare a mio nanno che non c'è più. È un'immagine dove si racconta il muoto apparente delle stelle. La Terra ruota. Ma se noi di notte iniziassimo a fare tante fotografie e metterle assieme, sono 360 fotografie, per una durata di sei ore. Questo è il fascino che alla fine arriva ai nostri occhi. Sono andato avanti. Però dentro di me c'era sempre il fotografo e l'ingegnere. E ragazzi, se la suonavano di santa ragione tutti i giorni. Ero veramente in crisi. Non sapevo cosa fare. Perché il fotografo voleva i suoi spazi. Io non potevo farne a meno. Però l'ingegnere bussava a porta e diceva ma tutto questo tempo a studiare cosa fai? Lo butti? Vuoi deludere così le aspettative dei tuoi genitori o di tutte le persone che credevano in te? Tante paure. Alla fine capì però una cosa semplice. Che mica bisognava per forza fare una scelta. E quindi io alla fine ho ottenuto sia il fotografo che l'ingegnere. E di nuovo dalle mie più grandi paure sono nate le mie più grandi soddisfazioni. Perché proprio mettendo assieme l'ingegnere ed il fotografo ho sviluppato un software per la fotografia. Questo software per la fotografia in realtà quando è nato non è nato con un intento prettamente commerciale. Anzi è un software che mi ero costruito io per semplificarmi la vita durante la fase di editing. Poi un amico un po' più di occhio lungo rispetto a me mi disse Gaspare tu sei totalmente scemo. Ma grazie. Perché io non avevo ancora afferrato l'idea che se questo software aveva cambiato la vita a me forse poteva cambiarla a tanti altri o a qualcun altro proprio rivoluzionare il metodo e l'approccio. E in effetti aveva ragione. Ma di preciso cosa ho fatto? Ho preso tante cose difficili. Le ho messe insieme. ci ho messo su un'etichetta con un nome semplice. E quando una persona deve fare qualcosa di complesso in realtà basta che prema il bottone con il nome semplice. Ma ancora più nello specifico cosa ho fatto? Immaginate, in ambito di post-produzione e correzione delle immagini il fotografo fino a prima era abituato a ragionare in termini di luminosità o di colore. Ma in maniera distinta, due cose diverse. Io quello che ho fatto è stato esattamente la stessa cosa che ho fatto con l'ingegnere e il fotografo. Ho preso la luminosità, ho preso il colore, li ho messi insieme ed è nato un nuovo sistema. Un sistema molto più ampio, molto più potente, molto più personalizzabile. Quello che ne è nato è la possibilità quindi di interverire non soltanto sulla luminosità ma sul colore e nel particolar caso separare colori caldi da colori freddi. Infatti il nome è Tonality Masks proprio perché è una separazione di tonalità calde o fredde. Ma la cosa ancora più bella venne dopo perché appena tirato fuori questo prodotto tutti, a partire dagli appassionati e professionisti, mi dederò subito gran fiducia. Nell'arco di due mesi due grandi aziende di rilevanza internazionale mi hanno contattato per avviare delle collaborazioni e con questa azienda collaboro tuttora. Ma la parte più bella è quella che dovrà avvenire nel prossimo anno dove sempre tramite queste aziende mi occuperò di un nuovo progetto. Questo progetto nel mio particolar caso mi occuperò di analisi e diciamo manipolazioni delle immagini in ambito digitale ma per tutto ciò che concerne un riconoscimento facciale, una scansione dell'iride, un calcolo volumetrico, realtà aumentata oppure realtà virtuale. Quindi non sarà più solo applicabile alla fotografia ma sarà fotografia, video, intrattenimento, scienza, ricerca, sicurezza. Ecco io quindi finalmente sono riuscito a mettere insieme queste mie due parti. Nota però è menzione d'onore ad un'email speciale. Un ragazzo un giorno mi inviò un'email e mi stava ringraziando. Mi ringraziava e io non capivo ancora per cosa. Poi quando sono arrivato alla fine ho capito. Questo ragazzo non aveva la possibilità di usare entrambi le mani. aveva soltanto una mano e anche quella che aveva poteva utilizzarla in maniera limitata. Quindi il giusto per coltivare la passione fotografica. Un click. E quando ha trovato il mio software e ha visto che con il mio software non serviva una tastiera perché tutto era messo insieme sotto un bottoncino e lui poteva coltivare la sua passione con un solo click a lui ho cambiato la vita. Ma è perché lui che me l'ha detto. Io non ci avevo ancora pensato. Allora per l'ennesima volta mi sono fatto mille domande. Ad oggi non vi nego che a casa ho una versione speciale del mio software e mi diverto a dargli dei comandi vocali. Quindi chissà un domani cosa potrà succedere. Quindi insomma io nella mia vita ho avuto continui cambiamenti però alla fine sono stata una persona molto fortunata. Molto fortunata perché sono riuscito a capire che cosa significa amare il proprio lavoro. Io vi faccio un esempio proprio fotografico perché è vicino a me. Per me amare significa svegliarsi la mattina e andare a fare un'alba e fotografarla. Voi non ancora sapete come sarà l'alba. Però ci credete, vi svegliate, amate quello che state facendo e andate a fotografare. Poi portate a casa nulla di buono perché l'alba è stata un po' piatta. Si torna a casa e il giorno dopo di nuovo vi risvegliate con la stessa voglia, con lo stesso sapore, con la stessa intenzione, ci credete di più di prima. E forse arriva anche la volta buona che l'alba poi la beccate. Quindi per amare è semplice. Basta diventare, basta essere la versione migliore di noi stessi. Basta diventare quella versione priva, spoglia di paure. E noi non dobbiamo aver paura, soprattutto di cambiare. perché la paura sarà la nostra migliore amica, la stessa amica che mi ha lasciato giusto adesso. Grazie. Grazie. Applausi. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.